Benvenuti su Gossip Globe! Prima di iniziare ricorda di mettere like, seguire il canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Nel video di oggi parleremo dell'inaspettata sostituzione di Antonella Clerici e vi sveleremo il nome della conduttrice che la sostituirà, togliendo dal palinsesto Rai il programma per un periodo di tempo limitato. La Clerici ha espresso emozione e soddisfazione per il cambiamento, mostrando supporto per la collega Eleonora, la quale estenderà il suo programma Storie Italiane fino alle 12.30, prendendo il posto della Clerici. Nonostante il cambio di conduzione temporaneo, Antonella ha rassicurato i suoi fan che il programma tornerà in seguito. Il palinsesto estivo della Rai prevede vari aggiustamenti e nuove programmazioni per coprire le fasce orarie vacanti. La decisione di far subentrare Eleonora Daniele è stata presa nell'ottica di mantenere alta l'attenzione del pubblico, dato che la Daniele ha già dimostrato grandi capacità con Storie Italiane. Questa transizione temporanea è stata accolta con favore dalla rete e dai telespettatori, che hanno sempre mostrato affetto e apprezzamento per entrambe le conduttrici. Inoltre, Antonella Clerici ha parlato apertamente dei suoi recenti problemi di salute, inclusa un'operazione alle ovaie per un acisti. La scelta di Eleonora Daniele come sostituta temporanea si inserisce anche in un più ampio contesto di rinnovamento dei palinsesti Rai per l'estate. Oltre a Storie Italiane, la rete ha pianificato una serie di nuovi programmi e riorganizzazioni per mantenere alto l'interesse del pubblico durante i mesi estivi. Durante l'annuncio, Antonella Clerici ha affermato «Eleonora è una collega straordinaria e sono sicura che farà un ottimo lavoro nel tenere compagnia i nostri spettatori in questo periodo». E tu, cosa ne pensi di Eleonora Daniele? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.